Ma dall'alto sembra grossi piedi, io non rischierei, però se vai di là, ma guardare così sembra, solo che poi quando ti si appoggia fuori strada, no non vai di su, il paraurti passa, Carmelo no, ferma, ti tocca dietro, piano, 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 ok, che era al limite, secondo me ci poteva anche passare il paraurti dietro, però, meno male che ci siamo l'acqua, eri a filo col paraurti nell'inclinazione, me lo si può traire? Come no? Adesso va su di nuovo, no, ah si, di qua si va, Sì, impressionante, ma è alta tutta così? Sì, dove va? Basti di lì? Ah no, io sono sceso da lì, da lì? Sì, ma sta lì e devi vedere? Ma no ben, non sembra una macchina di tua qua, sola, vale quello che costa, veramente, No, 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 Davis, poi ci ha preso gusto, ascolta c'è un V6 sotto, di potenza ce la fa, Pene se ti bevare le gome, vai sto facendo